Questo è un acino che è stato assaggiato da un capriolo probabilmente. Qui si vede il danno che questo tipo di animale infligge all'uva. Qua c'è la perdita di un 60-70% del peso del grappolo e degli acini. Danni da ungulati, caprioli e cinghiali che si vanno a sommare a quelli causati dalle gelate primaverili prima e dalla siccità poi. Il 2017 potrebbe essere l'annus orribilis per la vendemmia anche nella provincia di Arezzo che addirittura potrebbe essere la più scarsa dal secondo dopoguerra ad oggi. Sicuramente avremo delle quantità più basse. Ci saranno delle riduzioni dal 30 al 40% della produzione. Questo su una stima che facciamo in questo momento. Non essendo ancora il momento di vendemmiare, delle piogge che potessero arrivare i primi di settembre magari aiuterebbero un po' a ridurre questo scarto, questa percentuale. Dal punto di vista qualitativo l'uva che c'è, che è poca, è molto buona. Un'annata dunque difficile nella quale si contano già le perdite. Molte vigne per riuscire a far fronte perlomeno al problema degli ungulati sono già recintate. Ma questo non basta ad arginare il fenomeno. Proprio per questo gli agricoltori chiedono a gran voce un intervento urgente. Noi chiederemmo un cambio della normativa sulla caccia. Nel senso che attualmente si possono fare degli interventi di contenimento soltanto dopo che c'è stato il danno. Noi chiederemmo che gli interventi fossero fatti prima.